Musica Mi pare che ha giunto un dente che si muove Musica 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 E la PMA? Tu sai cosa chérie? Je veux bien te fare un enfant. Mais par MMDD. C'est quoi la MMDD? C'est fare un enfant come Marie, Mère de Dieu. E mi una fare? E? Beh, le domani c'est aussi morto e india a gaccio. Vedi, che ha gente bene a nabidiotti. E? Ti piacerebbe assente cosa, Don? Si tu si morto, non senti nulla, no? Chi mi ne foutu poco, mangia cagliante ici. No, ma metti moi, se tu puoi assente. Beh, a me mi piacerebbe assente. Oh, dire un bravo, dire un tipo astuto, dire un bel osidilo. Ah, Dio capito. A te ti piacerebbe assente un po' di uggire, così. Ah, che bugia, eh. Eh beh, tant a me mi piacerebbe assente un neancou morto, l'isarizza sempre. Ah, tu es so uggire, Vedi. Ah, 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 ah. Oh, adio pillato randevu qua homo gineco in a yaccio. Sinchinta. Ah wa, d'epa api, Lula. Ma wo adio randevu d'accuei a Noe Mezi. Chi è fù? Noe Mezi ? Tandu sinchinte ti faci l'échografia. non è giù manco tipo ecco l'adio non siamo migliorati qui la cool idea di schiarico e candele di a 10 ma cosa cosa tra l'anni senza lume avemmo fustato tutte candele ma è così aveva un paese mi ciò la sbriassi ne sono mica sicura sicura ma buon ci vediamo un scrabble no babà no pià piuttosto un paquetto di gatti ci vediamo l'appartito oui oui e poi che l'oltre lume subito beh dirai un traccia a distruirmi l'internet di appena giocare al film ah mi l'oltre 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 la puissance e la durée de vos erection cosa hai fatto io sì ci vediamo ci vediamo ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti.